Ciao a tutti bentornati sul mio canale Allora oggi come vedete dalla ripresa solita impedita Senza un cavalletto Sono qua per fare un unboxing Perché mi è arrivato Il terzo di tipo Sei album che ho ordinato Se non mi ricordo neanche più il numero Sempre degli sciagli ovviamente Questa è la versione CD più DVD Di Your Song Sing Your Song Quindi come vedete è tutto imballato Cerchiamo di unboxare in qualche modo Imprese Questo è l'album Ah ok che figo Come vedete CD DVD non so quale sia l'uno Quale sia l'altro Vabbè dopo scoprirò Vediamo il mini libretto Non è come i soliti Pfff Ah non importa Bene cominciamo con Ginky Che bello Questo qua fa tanto tipo Natale Fai festività quindi mi piace Questa mi piace un sacco Sanno che non abbia i maglioni con l'alto Sempre maglioni però Ah qua qua era biondo Biondo platino praticamente Bruttissimi come solito Sì vai Partiamo con mini Tutti in bianco comunque ho notato Stessi vestiti uguali Vabbè qua fa una solita generata che dividono le pagine Però almeno si vede E arriva la parte meglio No dai sono tutti belli in questo photoshoot Questa però Ha uno spazio speciale nel mio cuore Bene mancava il signorino Chi Madonna qua sembra ancora più piccola Questa pettinatura Sbam Così Ce ne sarà unissime adesso Sì certo I testi Che poi due canzoni in croce Va bene Bene Questo era l'unboxing Non so che era corto Ma come vedete Cioè Già tanto che c'era il libretto Perché nella versione del cd C'è proprio il mini 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 libretto Quindi ricordatevi di lasciare un like Se il video vi è piaciuto E Lasciate un commento Magari ditemi se ce l'avete anche voi Oppure quali avete degli shiny Solita storia E noi ci vediamo al prossimo video Ciao